Pensa che benché fosse affetto da sordità fin da giovanissimo, è considerato uno dei più grandi inventori della storia. Sto parlando di Thomas Edison, completamente autodidatta e dotato di una straordinaria tenacia. Pensate che con 1093 brevetti depositati nel corso della sua vita, ha rivoluzionato settori come la telegrafia, l'elettricità, l'illuminazione e le comunicazioni. Thomas Edison nasce nel 1847 a Miami, nell'Ohio, da una famiglia, possiamo dire, modesta. Sin da piccolo il bambino mostrò interesse per scienza e per fare delle invenzioni. Nel 1857 lascia la scuola per aiutare la sua famiglia, perché poiché è l'ultimo di sette fratelli, in casa c'era bisogno di da mano. E quindi, oltre a fare i suoi pericolosissimi esperimenti nel sementerrato di casa, fa anche dei lavori sporadici per guadagnare qualcosa. Quindi vende giornali e dolciumi sui treni, fa l'aiuto macellaio, fa il venditore di frutta e verdura. E proprio sui treni continua a fare esperimenti di ogni tipo. Pensate un po' che si mette a stampare, a distribuire proprio sul treno, il The Weekly Herald, il primo periodico che fu proprio stampato in movimento su un treno. E pensate un po' anche che il quotidiano The Times ha pubblicato un articolo su Edison piccolino che fa questo lavoro e il suo giornale. Fermi tutti prima di andare avanti, devo chiedervi una cosa. Ma se non vi piace il vostro lavoro, se non vi piace quello che state facendo, perché non pensate di diventare programmatori web? Pensate un po' che in Accademia Code potete in soli nove mesi diventare dei programmatori full stack, anche se lavorate. Quindi potete studiare senza obbligo di presenza. Mi raccomando, andate a guardare tutto nel link in descrizione. Nel 1863, all'età di 16 anni, Edison inizia a lavorare come telegrafista. Quindi ha, diciamo, il primo approccio con la tecnologia. E nello stesso anno sposa la sua compagna sedicenne, Mary Stewell, che poi si metterà a lavorare con lui. Il loro matrimonio durerà 13 anni, avranno tre figli, Marion, Thomas e William, che anche lui diverrà un inventore. Però lui, Edison, dedicherà pochissimo tempo alla famiglia. Sarà un genitore che possiamo dire evitante. Perché? Perché era un curioso, era molto attivo, era uno molto appassionato. Era una persona che cambiava spesso lavoro, era affamata di novità. E anche per questo scoprì che il lavoro da dipendente non faceva proprio per lui. Aveva bisogno di uno spazio suo per poter dar sfogo alla sua inventiva, alla sua creatività. Nel 1868 intuisce che dietro le sue invenzioni può esserci quindi anche un guadagno. E si licenzia, lascia tutto e cosa fa? Fa una domanda per depositare il suo primo brevetto, ovvero un registratore di voto elettronico. Che ha creato, cercando di migliorare quello che era poi il suo mezzo di lavoro originario. Quindi dal telegrafo è partito, ha cercato di migliorarlo e si è cominciato a accorgere che poteva diventare anche altre cose. E l'ha fatto diventare appunto un registratore di voto elettronico. Da qui in poi cominciò a mantenersi vendendo le invenzioni che creava e collaborando con le aziende come consulente. Non molto lontano, nel 1876 all'età di 29 anni, Edison fonda un laboratorio a Menlo Park nel New Jersey. Che divenne noto come la fabbrica delle invenzioni. E qui Edison lavora con il suo team per sviluppare e perfezionare nuove invenzioni. Per comprendere meglio Edison e il suo carattere possiamo citare una delle sue frasi più importanti. Genio è l'1% di ispirazione e il 99% di sudore. E con queste parole si comprende proprio quanto fosse prolifico come inventore. Era una persona che produceva tantissimo, non aveva tempo per nient'altro se non nel cercare di migliorare le sue invenzioni. Nel cercare di risolvere dei problemi e a forza di lavorare Edison comincia anche a perdere l'udito. Forse a causa degli esperimenti, delle esplosioni che provocava per cercare di scoprire cose nuove o forse a causa di una scarlattina contratta in giovane età. Ed era un vero e proprio problem solver. Cercava sempre di migliorare le cose, di migliorare un problema. Ed è proprio lo stesso modus operandi ossessivo che aveva poi, che avrebbe avuto poi Steve Jobs degli anni più tardi. E nel 1877, lavorando ancora sul telegrafo e la perfezione del telegrafo, inventa il fonografo che era in grado di registrare e riprodurre suoni. Questa invenzione gli conferì una grande notorietà e fu un importante contributo allo sviluppo della registrazione audio. Famose furono le prime parole impresse nel fonografo. Mary had a little lamb, ovvero Mary aveva un agnellino. E sempre lavorando il fonografo si accorse che per registrare meglio la voce si sarebbe dovuto ricorrere a uno strumento più specifico. E quindi cosa fa? Inventa e brevetta il microfono. Anche se a dire il vero, la paternità di questa invenzione sarebbe da attribuirsi all'inventore tedesco Berliner, che però purtroppo non riuscì mai a ottenere riconoscimento ufficiale della sua opera. Anche perché Edison era comunque spietato sulle sue invenzioni. Cioè, era una brava persona a livello sociale con i suoi collaboratori, ma per il resto pensava solo alle sue invenzioni. Quindi era spietato quando si trattava di difenderle. E lo vedremo anche più avanti nel corso della sua storia. Comunque, se Edison avesse copiato il microfono non lo sapremo mai. Possiamo però presupporre anche che i tempi fossero già maturi per quel tipo di tecnologia e quindi i due inventori potrebbero essere arrivati alla soluzione del microfono nel menesimo periodo. Ok? Poi, ovviamente, Edison forse è stato il primo a pubblicare il brevetto, eccetera, eccetera. Quindi questo non lo potremo mai sapere. Nel 1878, all'età di 31 anni, Edison si annoiava e disse Ok, adesso c'è bisogno proprio di inventare qualcosa di nuovo. Voglio risolvere un altro problema. E che fa? Prende le lampadine nell'epoca e dice Queste non funzionano bene, performano poco, sono molto costose. Ovvero, durava pochi secondi e si infiammava. E come ogni volta che Edison si troverà di fronte a un grosso problema di mercato da risolvere, ci fonderà un'azienda. Così nasce la Edison Electric Light Company, con lo scopo proprio di sviluppare e commercializzare un nuovo sistema di illuminazione incandescenza. Quindi nel 1879 presenta il modello funzionante di lampadina incandescenza che utilizzava una sottile striscia di carbone come filamento che avrà un impatto rivoluzionario sull'illuminazione domestica industriale. Poi nel 1880 disse Ok, la lampadina l'abbiamo fatto, però adesso bisogna anche trovare il modo di fornire corrente alle case sennò che ce ne facciamo di queste lampadine. E quindi si dedica allo sviluppo del sistema di distribuzione elettrica a corrente continua. Purtroppo nel 1884 la moglie di Edison, Mary, muore e lui, in questo momento di lutto, si dedicherà ancora più intensamente alle sue invenzioni. Quindi nel 1885, all'età di 38 anni, Edison incontra il suo grande nemico, ovvero Tesla. Lo sfiderà nella guerra delle correnti sull'uso dell'elettricità. Edison sosteneva che fosse migliore il sistema di distribuzione a corrente continua, mentre Tesla invece promuoveva il sistema a corrente alternata. Edison si battè con tutte le sue energie per dimostrare che la corrente continua fosse migliore, anche se poi nella realtà si è dimostrato che non fosse proprio così. Per immaginare la differenza tra corrente continua e corrente alternata, possiamo pensare a un tubo di acqua. Nel caso della corrente continua si vedrà sempre uscire lo stesso flusso di acqua e la stessa quantità di acqua. Nel caso di corrente alternata invece si vedrà un'uscita a onda, ovvero 0-100, quindi da 0 al massimo, quindi come se fosse un po' a schizzi. La corrente continua è più costosa da produrre e ha ridotte capacità di trasmissione sulla lunghezza, rispetto magari alla corrente alternata che ha costi minori di produzione e maggiore raggio di azione. Quindi possiamo arrivare più lontano con quella corrente dal punto di partenza. Ma da gran testone qual era Edison, pur di dimostrare che la corrente alternata fosse pericolosa per le persone, finanziò segretamente l'invenzione di uno strumento di morte a corrente alternata, ovvero la sedia elettrica. Invenzione che poi tutti sappiamo che purtroppo è stata anche di grande utilizzo in tutti gli anni successivi. Sempre nello stesso anno, nel 1885, Edison conosce Lewis Miller, un ricco imprenditore che sarà essenziale per il futuro della vita di Edison. Infatti proprio nel 1889, con il parziale supporto finanziario di Miller, Edison fonda la Edison General Electric Company, una delle principali società di elettronica e energia al mondo. Ma Edison non si ferma mai. Nel 1891 che fa? Brevetta il cinetoscopio, ovvero un dispositivo che consente di visualizzare brevi filmati, che sarà poi il precursore del proiettore cinematografico che i fratelli Lumière presentarono al grande pubblico nel 1895. Non sappiamo se Edison citò in giudizio i fratelli Lumière per plagio, in quanto si vocifera che Edison commise l'errore di depositare il brevetto dell'invenzione solo negli Stati Uniti. Quindi essendo che i fratelli Lumière lavoravano in Francia, non ci dovrebbe essere stata possibilità di denuncia. E nel 1892, all'età di 44 anni, fa una fusione, ovvero la Edison General Electric Company si fonda con la Thompson Houston Electric Company e nasce così la General Electric Company che tutti oggi conosciamo. Venduta l'azienda, che gli rimane da fare se non sfidare ancora Tesla? Così nel 1893 ci fu la grande sfida del Niagara. La sfida consisteva nel trovare il miglior modo per sfruttare l'energia delle cascate. Quindi Tesla e il suo sostenitore George Westinghouse proposero il sistema ad energia alternata. Invece ovviamente Edison propose la corrente continua, ma come tutti sappiamo il sistema a corrente alternata è migliore e quindi vinse l'appalto Tesla. In questo caso Edison fallì, però dimostrò anche di essere un gran resiliente, quindi lui non mollava mai. Nel 1894 uscì il primo film proiettato con il collaboratore regista William Dixon, che era The Edison Kinetoscopic Record of Sneeds, ovvero la registrazione di uno sternuto. Sebbene il film fosse della durata di 5 secondi, diventa proprio uno dei primi esempi di filmati cinematografici che ha contribuito a introdurre al pubblico l'arte della proiezione cinematografica. Nel 1899 torna la noia. Edison decide di fondare una società che si occuperà di sviluppare un metodo di estrazione del ferro dalle miniere, ovvero una macchina che utilizzava un magnete per separare il ferro dai detriti. Anche questa volta purtroppo il progetto non raggiunse mai il successo desiderato. Ci furono ostacoli vari, tra cui problemi tecnici, costi di produzione e una domanda abbastanza fluttuante del ferro sul mercato. Un altro fallimento, ma non importa. Nel 1901 Edison fonda un'altra compagnia, la Edison Storage Battery Company, per sviluppare e commercializzare la sua batteria alcalina, su cui aveva lavorato nei dieci anni antecedenti. E purtroppo anche in questo caso il progetto fallì. Edison non riuscì mai a commercializzare una batteria alcalina. Nel 1914 il laboratorio di Menlo Park viene distrutto da un incendio devastante, quindi Edison perde tutti i documenti, prototipi e attrezzature di laboratorio. Insomma, perse tantissimo, anzi perse tutto quello che aveva. E purtroppo il 18 ottobre del 1931, all'età di 84 anni, Thomas Edison muore. Possiamo dire che Thomas Edison è stato un genio dell'innovazione, un grande inventore straordinariamente prolifico, unico nella storia, e i suoi 1093 brevetti ce lo dimostrano. Dotato di una spiccata mentalità imprenditoriale, riusciva a rendere dei successi molto redditizi e gli insuccessi nuove idee per nuovi progetti, anche se comunque è stato un uomo che ha fallito moltissimo. Possiamo dire che Thomas Edison ha rivoluzionato per sempre l'andamento tecnologico del XX secolo. Se questo video ti è piaciuto però, e mi raccomando, scrivimelo nei commenti, fammelo sapere, metti like e iscriviti al canale. Alla prossima!